Con questa trentesima lezione del nostro ciclo di terza siamo arrivati alla conclusione e allora con Franco Manzitti ci domandavamo su che cosa fare, che cosa parlare e abbiamo deciso di chiacchierare un attimo noi due partendo dalla nostra esperienza lunga, lunghissima di cronisti, di giornalisti, dagli anni praticamente dalla metà degli anni 70, anche un po' prima, però il grosso è dalla metà degli anni 70 e è venuto fuori un discorso che facciamo spesso ed è quello che riguarda il decennio degli anni di piombo, cioè 1976-1986 più o meno, che è stato trattato molto in quegli anni costantemente perché ricordavamo che c'è stato un periodo 77, 78, 79, non passava settimana senza che a Genova non ci fosse una gambizzazione o qualche cosa del genere, un'atmosfera da guerra, veramente da guerra civile. Però poi è stato abbastanza dimenticato o trattato poco negli anni successivi, il periodo del terrorismo e degli anni di piombo. E allora abbiamo deciso di dedicare questi ultimi minuti proprio così a ricordare alcune atmosfere perché nelle redazioni dei giornali si viveva apparentemente male, in realtà poi la nostra vita era cambiata poco, anche se di questi terroristi non sapevamo assolutamente nulla. Era cambiata poco la nostra vita in generale, mentre secondo me era cambiata la vita professionale perché ci dedicavamo prevalentemente a quello, molti di noi si dedicavano prevalentemente a quello, con una conseguenza, un effetto che la nostra impressione era che non riuscivamo a scoprire nulla. C'erano questi terroristi che sbucavano, colpivano quasi tutti i giorni, mandavano volantini, mandavano risoluzioni strategiche, si chiamavano così, che erano lunghe decine di pagine, fitte, di concetti, pesantissime, con quella stella a 5 punte e di cui noi non sapevamo nulla. Allora era un lavorio continuo a cercare di interpretare, a consultare le fonti e anche le fonti che erano la polizia, i carabinieri, la magistratura, i primi magistrati che si incominciavano a occuparsi di quello e che si specializzavano, che anche loro sembravano brancolare nel buio. I partiti politici che faticavano a identificare, a interpretare, a attribuire responsabilità, a definire anche da un punto di vista ideologico chi erano questi misteriosi personaggi che sfidavano lo star? Ecco, forse nella prima parte, il pre-terrorismo, e sto parlando del 1971, quando viene ucciso sulla scalinata di via Bernardo Castello, che da via Bernardo Castello porta verso l'ospedale Galliera, viene ucciso il fattorino dell'istituto autonomo delle case popolare Floris, che tenta disperatamente di difendere la borsa con i soldi che doveva consegnare degli stipendi e viene ucciso, avrete in testa l'immagine della Lambretta Mario Rossi che spara da questa Lambretta e Floris, che cerca di tenergli e di trattenerlo per una gamma. In realtà poi lì i nomi li abbiamo saputi perché nello stesso giorno la fuga è stata bloccata e Rossi è stato arrestato e poi un anno dopo l'altro. Però poi dopo questo episodio comincia un periodo di violenza fortissima, pensiamo al sequestro di Mario Sossi, al sequestro di Piero Costa e all'uccisione di Coco. Sono gli anni dal 1974 al 1977, sono semplicemente tre anni. Noi percepiamo la grande sfida allo Stato, in tutte le sue istituzioni, in tutte le sue rappresentanze, con il rapimento di Sossi che avviene proprio a Genova, in via San Giuliano, una sera di aprile del 64, questo magistrato, soprannominato Dottor Manette per il suo rigore, viene preso e portato via, portato via nel centro della città, appena sceso dall'autobus da una vita normale e lì noi percepiamo che la sfida è pesantissima perché è a repentaglio la vita di un magistrato e la trattativa con questi rapitori è una trattativa punteggiata da quei meccanismi loro di comunicazione che ci avevano già colpito in precedenza ma che adesso giocavano sulla vita di una persona, di un magistrato. Quindi era veramente… Fortunatamente si conclude bene per Sossi. Si conclude bene e in maniera anche misteriosa. Misteriosa. Perché chi erano questi… Sossi torna a casa con le sue gambe un giorno… Viene lasciato a Milano, in un giardino pubblico, con un biglietto di treno, sale sul treno, arriva a Genova da solo, fa un percorso suo, poi alla fine arriva a casa e anche il rilascio mantiene parecchio mistero. Così come molto mistero mantiene ancora se vogliamo il sequestro di Piero Costa, anche lui sequestrato una sera poco prima delle 8 di sera in spianata Castelletto mentre ritornava a casa e fu il fratello ad accoggersi del sequestro perché trovò il cappello. Sì e queste cose ci colpivano nella nostra quotidianità da una parte perché nelle nostre strade, nelle nostre case, vicino a dove lavoravamo… Tutti noi abbiamo avuto vicino a casa un fatto, questo è impressionante. A pochi metri da casa e non sapevamo nulla, battevamo la testa eppure lavoravamo, non eravamo inerti. C'è stata anche, non so se tu sei d'accordo, un po' di cultura del sospetto perché poi quando si andava alla ricerca di chi fossero questi brigatisti, di chi fosse quello che po' chiamava questi personaggi le presunte brigate rosse, le sedicenti brigate rosse e c'era il sospetto che non fossero rosse, c'erano tra l'altro, noi non possiamo rimuoverlo, c'era il fatto che oltre a quel terrorismo lì delle brigate rosse c'era il terrorismo nero, che colpiva con stragi sanguinosissime perché Piazza Fontana è del 69, quindi ancora anticipavano le bombe sui treni, quindi noi eravamo tra due fuochi in qualche modo, mentre una parte veniva interpretata dal primo momento in maniera diretta e facile che era il terrorismo nero, l'altra parte era interpretata con difficoltà, né con lo Stato né con le BR per esempio. Esatto, fino all'uccisione di Guido Rossa e lì c'è proprio lo spartiacque. C'è il momento nel quale svolta e tu dicevi giustamente all'inizio poi di queste cose non si è più parlato tanto, non si è più approfondito, ma io mi ricordo con lucidità la velocità con cui tutto questo è stato rimosso, quando finalmente i brigatisti responsabili di decine di omicidi, la colonna genovese che era una delle più violente, sono stati processati, noi abbiamo mandato al processo più giornalisti perché pensavamo che dopo tutti quegli anni di terrore, di paura, di interrogativi, finalmente li avremmo visti in gabbia nell'aula, non c'era pubblico, mi ricordo che la cosa che ci fu, non c'era pubblico e al pubblico non interessava, cioè non era la notizia che si vendeva, c'è stata un'animazione collettiva e allora anche forse lì probabilmente anche l'incapacità di costruire, di scrivere dei libri, di approfondire, è stato come se tutto di colpo si cancellasse, si volesse cancellare. Ed è un peccato perché salvo qualche collega anche che ha fatto degli egregi lavori. C'è un bellissimo libro, gli imprendibili di Andrea Casazza, ma è un caso raro. Mentre sul pre Brigate Rose ci sono quelli di Donatello Alfonso che è andato a intervistare tutti questi protagonisti. Ma sono arrivati molti, molti anni dopo, decine di anni dopo. Eh sì, però poi di altro diciamo una storia organica non è stata fatta. Bene, siamo in chiusura. Direi che abbiamo toccato tantissimi argomenti con queste 30 puntate di terza. Chissà, speriamo di farlo ancora. Grazie a voi, intanto ringraziamo i collaboratori, gli amici che hanno voluto venire a raccontarci questa città, la sua storia, la sua arte. Ci hanno dato delle lezioni. Ci hanno dato delle piccole lezioni in 12 minuti che abbiamo accolto con grande leggerezza anche perché in fondo non c'è bisogno di essere pedanti e noiosi per raccontare queste cose. E grazie soprattutto a chi ha voluto ascoltarci. Grazie a tutti.